Con la finale del Grande Fratello Vip tanti equilibri sono tornati a nascere. Diversi litigi nati proprio all'interno del reality, infatti, si sono poi distesi con i chiarimenti dell'ultima puntata. La maggior parte dei geffini non ha voluto portarsi dietro rimorsi e rimpianti, come ad esempio Soleil. Alex e Delia, che dopo mezzo anno di litigate, si sono salutati con il sorriso. Dall'altra parte, anche Kabir e Manila sembrano aver deciso di chiarire la situazione tra di loro. Nonostante, quando Kabir uscì dal GF, rilasciò diverse dichiarazioni su Manila, descrivendola come una persona falsa ed incoerente. Al contrario, Manila ha cercato di riportare tutto all'ordine. Ciao Kabir, e tutte le discussioni da stasera non esisteranno più. «Felice di averti conosciuto», così ha scritto sui social Manila Nazzaro, pubblicando uno scatto che li ritraeva insieme sorridenti. Non sappiamo con certezza se si è trattato di una pace mediatica, o se i due sono tornati veramente ad essere amici. La foto ha comunque creato tante polemiche su Twitter poiché il pubblico si è sentito preso in giro. Ora ti fingi amica di Kabir, solo perché hai visto come ti abbiamo descritta e apostrofata scrive invece un'altra, questa volta puntando il dito contro la donna. «Non cambierò idea su di te. Alla cattiveria negli occhi soprattutto hai offeso e maltrattato il nostro Kabir. Li ricordo i discorsi fatti in bagno con le sorelle su Kabir». Insomma, sui social è evidente che il pubblico non riesce a credere a questa rappacificazione, anzi, la considera solamente una mossa strategica per evitare polemiche dopo la finale. Non c'è certezza su come stiano veramente le cose tra i due. Probabilmente avranno preferito lasciarsi i malumori del GF alle spalle, prendendo ognuno la sua strada nella vita reale.